Noi abbiamo voluto con forza questa iniziativa, questo festival del Liberty, Pesca e Percara non è soltanto una città Liberty, Pescara è il Liberty in tutte le sue espressioni. Poi noi abbiamo questo meraviglioso edificio che è l'Aurum che si trova all'interno di una pineta meravigliosa che purtroppo ha subito questo incendio drammatico che tutti abbiamo vissuto, però lì io ho visto veramente lo spirito dei pescaresi, la forza della reazione di chi vuole far rinascere questa pineta e questa manifestazione sicuramente si presta perfettamente perché inserita in questo contesto noi l'avremmo voluta fare all'interno della pineta, era organizzata così, ci siamo spostati all'Aurum proprio perché la pineta in questo momento è inagibile. Però torneremo in pineta l'anno prossimo, nel frattempo ci godiamo tutti questi spettacoli e avremo per una settimana in modo tale che questa settimana sia veramente la settimana del Liberty a Pescara. Nonostante un po' tutto, nonostante la pandemia, nonostante l'incendio, nonostante la pioggia che per forza doveva esserci, però andiamo lo stesso con questi quattro giovani straordinari, è una selezione delle musiche, diciamo, delle pagine più belle della Bohème. Ringrazio tutti, ringrazio il maestro Rendine, ringrazio il sindaco e il pubblico che ha avuto tanta pazienza anche lui, ma l'abbiamo avuto anche noi. Vogliateci bene!